Double crunch. Attenzione! Esercizio molto avanzato, assicurati di avere la muscolatura lombare ben allenata, prima di eseguire questo esercizio. Immagina una linea verticale che parte dal tuo bacino. Contraendo l'addome, avvicina le spalle e le ginocchia alla linea immaginaria. È molto importante far rimanere il bacino immobile, durante l'esecuzione. Ritorna alla posizione di partenza.